Io sono contento e felice di aver operato con la Monterosa che ho trovato con Ganesh e gli altri collaboratori più dei prestatori di lavoro e degli amici. Abbiamo raggiunto la vetta della Mada Brown, tutti e tre, è stato molto bello, il servizio della Monterosa Trekking ha funzionato molto bene, siamo stati soddisfatti, tutto lo staff, la cucina, i servizi sono andati bene, l'unica cosa che potremmo dire che ci può mancare magari è qualche ragazza. Al passo 5124 metri, questo è il luogo sacro che consagra le vette dell'Himalaya, Isolago Viaggio è arrivata sin qui con il suo equipaggio, grazie all'ottima organizzazione di Monterosa Trek.